Ancora categoria G1 e anche per loro tra i giri del circuito di Corte Franca, per un totale di 2,4 km di gara. Gara impegnativa sin dalle prime battute con Nuvolento, Springedi, Monte Clarense, Villongo, Camignone e Nuvolera che hanno preso il largo e tra loro si nasconde il vincitore. Quindi io non lo costingo, l'importante è lavorare, il mio papà fa il casalingo, il casa che? Il casalingo. E perché? Il casalingo si sa. Tutto il pubblico a corso a Corte Franca quest'oggi sta attendendo il vincitore. Ed eccolo qui, è Ferrari Nicolas del Team Nuvolento che vince davanti a Zeni Fabrizio Angelo della Springedi, Poi Anni Gabriele della Monte Clarense, Faustini Mauro della Camignone e Ragnoli Matteo della Monte Clarense. Vincitore. Vincitore.